Siamo insieme alla Presidente Deborah Seracchiani, buonasera, orrevole. Beh sì, direi di sì, buonasera. Mi aiuta a capire adesso cosa succede? Intanto noi abbiamo scritto, ora Seracchiani che fa? E cerchiamo di capirlo insieme, anche perché è chiaro, dobbiamo commentare quello che lei ha già definito una lezione durissima, il risultato del PD e tutto il resto. Ma ora, tecnicamente, cosa succede? Perché sono riforme che richiedono ancora del tempo, ad esempio quella sulla sanità bisogna accelerare il trasferimento del sistema sanitario sul territorio, insomma abbiamo lavorato molto sugli ospedali, li abbiamo messi in rete, le aziende sanitarie in questo momento sono meglio coordinate, bisogna fare quel passo in più che è appunto il territorio, dove in alcuni luoghi siamo riusciti, abbiamo aperto anche i centri di assistenza primaria, in altri ancora non siamo riusciti e quindi bisogna insistere su quello, un caso ad esempio di Trieste è l'ospedale maggiore. Quindi portare avanti comunque la riforma? Assolutamente, parlavo dell'ospedale maggiore perché se lei va al secondo piano entrando la via della pietà, trova già le stanze pronte per i medici di famiglia con gli strumenti che servono gratuitamente e loro possono insediarsi lì, lì ricevere i loro pazienti e se il paziente ha la necessità di una visita più approfondita e specialistica c'è già l'ospedale perché stanno dentro l'ospedale. Ecco questa cosa va completata. Poi ci arriviamo però qualcuno già ironizzava, beh insomma se questi sono i risultati allora il centrodestra ha un'autostrada per le regionali quindi l'area a caldo si chiude. Ma io mi auguro di no perché allora bisogna andare a dire a 400 persone che rimarrebbero a casa con le loro famiglie che c'è questo piccolo problema. Io invece credo che, ma guardi guardi io sono disponibile con tutti, lo continuerò ad essere e mi farebbe anche piacere con chi è contrario a tenere aperta l'area a caldo a partire dal sindaco con cui abbiamo comunque un confronto costante quindi voglio dire viene informato costantemente dell'attività che viene svolta in quel sito. L'attività che è stata svolta in quel sito fa sì che l'area a caldo adesso non sia quella del 2009, del 2010, del 2013, del 2015 e per fortuna non è neppure quella del 2016 e del 2017 che tanti problemi ci ha dato. Questo non significa che quell'area a caldo deve rimanere così com'è a prescindere, ha bisogno di altri interventi e se poi si decide che nonostante tutti gli interventi quell'area a caldo non va bene allora le scelte dovranno essere diverse ma dovranno essere accompagnate, non si fa in una notte, si fa con un periodo di tempo chiaro, un cronoprogramma altrettanto chiaro, ci vogliono degli anni, ma a me piacerebbe che ne parlassero conoscendo le cose, poi magari alla fine della conoscenza può darsi che arrivino al medesimo risultato o magari pensino che va chiusa ancora prima, ma conoscano le cose, si informino, studino, cerchino anche di capire quel lavoro che è stato fatto, parlino con l'ARPA, con l'azienda sanitaria, noi abbiamo messo insieme tutta una serie di relazioni che erano inesistenti su quel sito a partire dall'Istituto Superiore della Sanità. Grazie a tutti.